E' chiaro che il nostro, che è vero, alla base c'è sempre una porta, ma per noi non è una porta, è un elemento di arredamento, di architettura, è un complemento quindi, è un oggetto che vuole essere espressione di creatività per i professionisti, che sono i nostri storici interlocutori, con i quali noi abbiamo chiaramente sempre e da sempre spinto la flessibilità dell'azienda, sia sull'aspetto estetico, dimensionale, applicativo e che quindi permette veramente di soddisfare un po' tutte quelle esigenze che oggi più che mai, in un mondo dove la qualità, il servizio, la puntualità, la precisione sono elementi di importanza notevole, di valore aggiunto, riteniamo di essere sicuramente dei leader. Ovvio che tutto ciò vuol dire un impegno notevole, sia in termini produttivi che di tempistica, oggi il servizio è fondamentale per poter soddisfare un certo tipo di interlocutori di esigenze. Come si diceva prima, il nostro che è un prodotto invisibile vuole diventare visibile tramite la creatività del professionista, quindi noi vogliamo dargli quell'argomento che permetta prima di tutto di gratificare se stesso, quindi l'architetto e poi a sua volta con la sua espressione di creatività diventa elemento di soddisfazione per il cliente finale. Questo è un po' se vogliamo l'elemento prioritario sui quali noi ci confrontiamo quotidianamente con professionisti, con i prescrittori con i quali veramente abbiamo un lavoro gomito-gomito costante che permette poi di fare quelle realizzazioni che abbiamo visto e che sono oggi rappresentate in questo strumento di comunicazione che è una raccolta di realtà realizzate, quindi case, uffici, teatri, realtà importanti dove la porta è un elemento sostanzialmente di valenza estetica. Il prodotto chiaramente deve avere delle caratteristiche e delle peculiarità uniche affinché soddisfino quelle esigenze che abbiamo detto prima di invisibilità, ciò significa che il prodotto se non è altamente performante è che crea dei disservezi. Ricordiamo che in effetti questo oggetto ha un telaio in metallo sul quale va a legare o delle malte cementizie o dei cartongessi, quindi delle rasature, deve essere altamente performante per evitare che crei quegli stacchi, quegli scricolatori, quelle piccole anomalie che fanno la grande differenza su una porta rigorosamente, se vogliamo, contestualizzata. L'unico elemento che fa percepire che sia una porta è questa fuga perimetrale di 2 mm che è l'aria che rimane tra il telaio e il battente, il quale a sua volta, che può anche essere grezzo o finito come la parete, deve avere delle elevatissime caratteristiche, delle performance prodotto tale che sia stabile nel tempo. E questo è stato raggiunto grazie allo sviluppo di altissime tecnologie per quanto concerne la realizzazione del telaio che è un alluminio che ha un trattamento di passivazione molto particolare che l'ha preso famoso e che quindi permette di garantire fino a 10 anni l'applicazione su una parte muraria abbinandola a una battente, quindi a un'anta meccanicamente stabile anche per misure elevate, visto che noi arriviamo a fare ante fino a 3 metri di altezza e talvolta possono anche essere realizzate curve, quindi a botte o ad arco e lei capisce che se tutto ciò non è estremamente performante e che soprattutto garantisca la stabilità nel tempo, oltre che all'estetica che il nostro professionista ha realizzato, potrebbero creare dei notevoli problemi.